Buongiorno e bentrovati sulla tv di Guendalina. Questa mattina abbiamo nuovamente ospite il consigliere di minoranza Emilio Romaniello. Buongiorno Emilio. Avremo occasione questa mattina di toccare insomma un po' di argomenti che abbiamo tralasciato la scorsa volta e sicuramente poi di ritornare anche sul discorso viabilità in piazza anche in virtù della novità che è appunto delle ultime ore quella che appunto i consiglieri di minoranza di Vallo hanno scritto al prefetto visto che dal 14 di ottobre avevano chiesto un consiglio comunale straordinario al sindaco Aloia sul tema viabilità in piazza e non c'è stato alcun riscontro da cui quindi è seguita anche la segnalazione al prefetto di intervenire affinché venga ristabilita la democrazia laddove invece sembra dove stia regnando un po' di anarchia. Certamente questo comunque ce lo spiegherà meglio il consigliere Romaniello che ci snocciolerà un po' quelle che sono state le richieste fatte al prefetto. C'è da dire anche che secondo le voci l'amministrazione dice che questo argomento non sarebbe argomento di consiglio comunale e quindi per questo motivo non sia stato ancora convocato il consiglio. In ogni caso c'è da dire anche un'altra cosa, c'è d'obbligo una premessa prima di iniziare e cioè questa. Il sindaco Aloia e i componenti dell'amministrazione, quindi parlo della maggioranza, sono stati più volte invitati in trasmissione per poter dire la loro su qualsiasi argomento. Naturalmente avremmo toccato con loro l'argomento piazza che è così caro ai cittadini e soprattutto i commercianti ma avremmo toccato un po' tutti i vari argomenti e tutte le varie vicissitudini che ha vissuto l'amministrazione comunale in carica dal momento della loro affermazione elettorale. Rinnovo quindi per questo motivo l'invito diretto al sindaco Aloia di intervenire in trasmissione nei giorni in cui vorrà e quindi basta che ce lo faccia sapere insomma anche una mezz'oretta prima, noi ci organizzeremo appositamente per lui per dargli parola. Poi so perché ho ricevuto anche questa mattina una sua telefonata dove mi diceva che lui non interveniva in determinate trasmissioni dove si effettua un'azione discriminatoria nei confronti dell'amministrazione comunale. Io al sindaco rispondo che l'azione discriminatoria non viene fatta anche perché noi diamo libera parola a chiunque voglia intervenire della minoranza così come della maggioranza. Se poi la maggioranza gioca a nascondino questo non è un problema nostro. E per di più voglio dire anche un'ultima cosa proprio per non rubare altro tempo è che probabilmente Aloia e la sua maggioranza non intervengono in trasmissione perché intervengono invece in altre trasmissioni perché in questa trasmissione le domande le scrivo io, nelle altre trasmissioni invece le scrive il politico di turno. Detto questo possiamo iniziare con questa trasmissione di questa mattina, ritorniamo quindi ad Emilio Romanillo e ci facciamo spiegare un po' che cosa è cambiato per quanto riguarda questo discorso della piazza e perché insomma avete pensato di scrivere al prefetto? Vedo che sei abbastanza arrabbiato quindi forse lo sei più di me ma io non è che sto su questa tv, te ne do atto perché voi dovete fare la sponda a qualcuno, voi dovete fare l'informazione. Purtroppo noi sulla verità con questa amministrazione ci siamo tornati varie volte. Io stamattina sono più arrabbiato di ieri mattina. Ieri mattina era il 3 di novembre, espiravano i 20 giorni che lo statuto comunale assegna per la convocazione e la celebrazione del Consiglio Comunale. Bene, espirati questi giorni e non vedendoci recapitare niente, nemmeno una lettera. Allora io dico, lo dico ai cittadini che ci ascoltano, a tutti i telespettatori, ma secondo voi è corretto? Cioè lo statuto è una legge, tra virgolette, che l'ente si è dato. Cioè, osservare lo statuto per i rappresentanti del comune è un obbligo, va bene? Poi giochiamo sui termini, siccome là c'è scritto entro, cominciamo a dire no, ma non è un termine perentorio, quindi entro è ordinatorio. Allora io dico, ma è corretto che non si comunica nulla a cinque consiglieri comunali, cinque, quindi uno pure in più rispetto alla minoranza venuta fuori dalle elezioni. Allora c'è qualcosa? C'è qualcosa da dire su questo? Bene. Ieri io scrivo al Prefetto dicendo fondamentalmente questo, illustrissimo signor Prefetto, noi abbiamo fatto, cinque consiglieri comunali hanno fatto questa richiesta, ai sensi dell'articolo 10 quarto comma dello statuto che recita così, ai sensi del regolamento che recita, poi mi ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 267. A oggi non abbiamo ricevuto niente, ti chiediamo di intervenire utilizzando i tuoi poteri sostitutivi, che sono quelli prima di diffidare e poi eventualmente di convocare d'imperio il consiglio comunale. Questo perché c'è un silenzio assordante che viene dal palazzo di città. Bene, che cosa succede? Ieri sera, ieri sera, io l'ho aperta stamattina ed è qui, l'ho stampata, mi hanno scritto tramite PEC, mi scrive il sindaco, alle 20 e 59. Ieri sera ha trovato il tempo per scrivermi. Sì. E fondamentalmente... Cosa dice all'interno di questa... Fondamentalmente dice, qua la polemica non è che la vogliamo aizzare noi, non è che vogliamo cavalcare noi la polemica, noi non vogliamo cavalcare nessuna polemica. Noi vogliamo semplicemente che l'amministrazione faccia gli atti, ma faccia gli atti giusti, non quello che immagina di fare l'amministrazione. Perché l'amministrazione deve venire in consiglio a confrontarsi. Poi loro hanno i numeri, alzano la mano, vincono, abbiamo risolto il problema. Qual è il problema? Ma forse il problema è il problema. Qual è il problema di celebrare un consiglio comunale monotematico? Mi scrivono e mi hanno detto. Non è un argomento di consiglio comunale? Non lo è. È già perché il PUT, cioè il piano urbano del traffico, si approva con un altro organo, non lo approva più la Giunda. Non lo approva più il consiglio comunale, chiedo scusa. Mi dice, mi preannuncia che fanno una delibera, che faranno una delibera, che del racconto contemporanea tutte le esigenze. Ok? E che di questo argomento, ad abbondanza, sarà uno degli argomenti del primo consiglio comunale utile. Ma dico, ma è il rispetto questo? È il rispetto o è veramente una dittatura? Cioè, ma cinque consiglieri comunali sto dicendo. Certo. Cioè, le scorse elezioni hanno dato un risultato vincente per la lista di Aloia, ma non di 3.000 voti. Ragion per cui, qua ognuno di noi parla in rappresentanza dei cittadini che lo hanno eletto. Allora c'è tanta gente che vuole avere delle risposte, ma soprattutto vuole avere della chiarezza, vuole avere una trasparenza. Mi dice in questa lettera che ci sono stati vari incontri con i commercianti, con le associazioni, ma io non li conosco, io li voglio sapere. Io sono un consigliere comunale di minoranza e la gente, se io non so queste cose, mi dice che io non faccio nulla. E io sto a spiegare, guardate che se non fanno le delibere, se non fanno le determine, io che cosa fanno? Non lo so. Perché io non posso andare nella testa dei consiglieri di maggioranza, degli assessori e del sindaco. Quindi la situazione della piazza è paradossale. È la fotografia di come questa amministrazione gestisce la cosa pubblica in questo paese. Sta polemica, ci potevano mettere la parola fine loro, perché qua stiamo discutendo sulle loro dichiarazioni, solo sulle loro dichiarazioni. E mi vengono a dire che noi facciamo speculazione politica, ma l'articolo al giornale, le hai scritte tu quelle cose o te le hanno dette loro? Scusami, mi viene questo dubbio. Le hai scritte tu? Sono dette registrate. Oh, quindi qualcuno, te le hanno dette loro, quindi sono autentiche. Sicuramente. E allora sono loro che mi vengono in giro la gente o che fanno? Ma che facciamo? Ma che gioco giochiamo? Io sono arrabbiato, perché dopo questa lettera, io oggi scriverò di nuovo al prefetto, perché se non interviene, beh, non lo so che facciamo qua. Qua veramente non lo so che facciamo, perché questa volta non la può passare così. Non la può passare così, perché se lo immagina di metterci sotto i piedi, ha sbagliato. Stavolta ha sbagliato. Perché arriveremo a fare tutte le azioni, anche giudiziari, possibili e immaginabili. Volevo chiedere, di tutta questa situazione i commercianti che cosa ne dicono? Ma guarda, io le dico la verità, le sembrerà strano, ma io non cavalco queste situazioni, perché io i commercianti ne capisco le difficoltà, ma io non è che sento i commercianti, io non è che la mia azione è subordinata o dettata dai commercianti, io li capisco. Non è che mi sento, adesso facciamo questo, non è così, proprio perché non sto cavalcando nulla, ma se mi devo mettere a cavalcare qualcosa, cavalcherò qualcosa, perché loro devono fare gli atti. Tanto è vero che me lo dicono stesso loro che ancora non hanno fatto gli atti, e io gli voglio dire, ma perché allora la strada è chiusa e il parcheggio è così. Chi lo ha stabilito? Chi? Anche perché lei mi diceva che successivamente, nel momento in cui i lavori della piazza sono iniziati, così come sono iniziati, sono terminati i lavori, non è intervenuto alcun tipo di provvedimento che ha vietato l'ingresso in piazza, se non qualche provvedimento ad hoc nel momento in cui si facevano i lavori step by step, e allora a quel punto praticamente sono stati fatte delle delibere per vietare magari l'ingresso in determinate zone, oppure per magari spostare i parcheggi da una parte all'altra. Ma ad oggi non ci sta nulla di definitivo, o mi sbaglio? E' così, è così, è esattamente questo. Mi stava dicendo invece? E' esattamente questo. Mi stava dicendo invece? Ah, un'altra cosa, io dicevo, svelo un altro segreto, noi la proposta per metterla in discussione in Consiglio Comunale l'abbiamo già fatta, l'abbiamo fatta quando abbiamo fatto la richiesta, volontariamente io insieme agli altri consiglieri non l'abbiamo depositata, volontariamente perché abbiamo detto, noi teniamo questa proposta, voi convocateci il Consiglio, siccome siamo noi a richiedere la convocazione, vi porteremo la proposta nei tempi utili per farvela analizzata, perché non volevamo dargli vantaggi e speculazioni, perché loro siccome sono cose che dovrebbero fare loro e sapere loro, le possono fare benissimo, perché noi abbiamo costruito una proposta sulla base degli atti fatti da loro, perché noi dobbiamo semplicemente dimostrare che loro a oggi non hanno chiuso il traffico, quindi che loro a oggi non hanno fatto nulla e che loro a oggi in un modo abusivo, rispetto agli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale, stanno agendo, chiudendo il traffico e vietando la sosta in piazza, gli stiamo dicendo, voi ripristinate tutto, poi siccome state facendo il nuovo PUC e nel nuovo PUC c'è il nuovo piano urbano del traffico, fate in quella sede i provvedimenti che volete fare, ma glielo stiamo dicendo, la nostra proposta bene o male dice questo, glielo stiamo dicendo in tutte le salse, perché poi non abbiamo depositato la proposta, ma con tutte le interviste che abbiamo rilasciato e con tutte le cose che abbiamo scritto su Facebook, abbiamo chiarito la posizione, anche nella nota che ho ricevuto ieri sera alle 9 e che stamattina ho aperto la posta elettronica e ho visto, mi dicono, vabbè voi non avete depositato la proposta, quando nella richiesta c'era scritto, chiamami, fissaci la data e noi depositiamo la proposta, perché la proposta è pronta, quindi siamo veramente alle compie. Ma in breve la vostra proposta quindi che cosa comprende, cioè voi che cosa chiedete di fare all'amministrazione? Allora, sullo stato degli atti, sullo stato degli atti, di ripristinare lo stato scuo antelavori, perché quello è, se poi loro vogliono fare altro, devono fare, ripeto, devono modificare il PUT, il piano urbano traffico, non è che devono fare una delibera di giunta, devono modificare il piano urbano traffico, devono modificare il piano urbano traffico, punto. Lo fanno, hanno i numeri, se lo votano e stiamo tutti tranquilli. Cioè noi vogliamo stabilire, ristabilire la legalità. Per quale motivo secondo lei questo passo non si fa? E non lo so. Il giornalista lo devi fare tu, devi intervistare loro, non lo so, io non lo so, io lo voglio sapere, voglio fare una discussione in Consiglio Comunale, in Consiglio Comunale quando abbiamo cercato di parlare dei lavori pubblici, perché poi quando uno dice che quello non è argomento di Consiglio Comunale, i lavori pubblici sono argomento di Consiglio Comunale, ragione per cui siccome la manutenzione straordinaria è fatta in piazza, il restyling della piazza è un lavoro pubblico, beh anche per il fatto che facendo questo lavoro si modifica un qualcosa che prima era, si faceva in un altro modo, solo per questo, e non è stato mai detto chiaramente negli atti, solo per questo può essere assorbito di nuovo come materia del Consiglio Comunale, però poi dico una cosa, ma quando 5 consiglieri comunali te lo chiedono, ma dobbiamo stare a pettinare veramente le bambole a capire se c'è o non c'è il cavillo del Consiglio Comunale, c'è una discussione che anima il Paese, tu fai il giornalista, quindi ne senti parlare da quanto tempo di questo problema, quindi è un problema del Paese, e allora il Consiglio Comunale non può parlare di questo Paese, quando facevo il facendo funzionario mi davano, mi chiedevano, mi hanno chiesto, Aloia mi ha chiesto, un Consiglio Comunale straordinario sul laser, l'abbiamo fatto, potevo dire io che forse noi siccome non incitavamo direttamente sulla politica sanitaria non convocavo il Consiglio, potevo dire una cosa del genere, non l'ho detta, il Consiglio Comunale è un luogo di confronto, e allora va bene, venga, oggi però di sanità non ne parliamo più, non se ne parla più, non se ne parla in Paese, città, ci abbiamo fatto una campagna elettorale, però adesso non se ne parla più, la situazione dell'ospedale è quella che è, e non se ne parla, perché è tutto a posto, funziona tutto. In ogni caso, diciamo che in questa situazione siamo tutti orecchie per attendere quando ci sarà dato un cenno da parte di questa amministrazione affinché si chiarisca una volta per tutte se questa viabilità in piazza verrà ripristinata oppure no. Lo ricordo io, ed è stato anche insomma inserito all'interno della proposta di Consiglio Comunale fatta appunto dai consiglieri di minoranza, durante i lavori della piazza Vittorio Emanuele II, io ebbi modo di sentire, quindi intervistando sia il sindaco Aloia che il vice sindaco Ametrano. In quella sede Aloia mi rassicurò, affinché io rassicurassi poi tramite insomma il quotidiano per il quale io lavoro, di dire che ci sarebbe stato in piazza solamente un restyling, poi tutto sarebbe tornato alla normalità e sarebbe stato ripristinato lo status quo. Altrettanto disse Ametrano, il quale so che ancora oggi è d'accordo con questa apertura al traffico, però effettivamente poi da quello che mi si disse a quello che si è fatto io vedo che a tutt'oggi il traffico a vallo ha subito dei cambiamenti, specie naturalmente nella zona centrale. Quindi il discorso che dico io, due sono le cose, o hanno ripensato a quello che si era detto allora ed è normale ripensarci perché voglio dire solamente chi non fa non sbaglia e quindi per questo Aloia e compagnia potrebbero dire benissimo ci ho ripensato, a me la piazza piace chiusa e quindi va bene così, poi magari saranno i cittadini a capire e a dire se per loro va bene la piazza chiusa oppure no. Però questo silenzio effettivamente non lo si comprende anche perché Aloia è stato interrogato anche più volte sull'argomento così come gli altri e si è glissati sempre in merito a questa situazione. In ogni caso siamo qui e lo ribadisco, Aloia è a tre passi dallo studio dove noi registriamo, quindi anche adesso se ci viene a bussare, visto che noi siamo in diretta sono le 10.38, se ci viene a bussare noi lo apriamo e gli diamo la parola tranquillamente. Ricordo ad Aloia che sono intervenuti sindaci di altre zone, da Agropoli, a lunedì avremo il sindaco di Roscigno e Pino Palmieri che penso una distanza un po' più ampia rispetto alla sua che sta ripeto a tre passi. Comunque in ogni caso tornando a noi volevo toccare con il consigliere Romaniello nuovamente anche la situazione del polo tecnologico che come mi diceva la scorsa volta ma non abbiamo avuto modo di analizzare bene questo punto. Polo tecnologico doveva essere utilizzato come polo universitario o comunque avrebbe dovuto ospitare un'università telematica, ad oggi ospita solamente il consiglio comunale o mi sbaglio? Qualche convegno, qualche presentazione di libro, concedono la sala per qualche occasione. Però ha avuto un finanziamento mi sembra di 200 mila euro per farlo diventare polo tecnologico. Sì, quello è un finanziamento che ho curato personalmente anche, ho collaborato io ai tempi dell'amministrazione Cobellis ed abbiamo lavorato io e la consigliera Maria Rosaranese per portare questo finanziamento cosiddetto immateriale. Sono fondi PON? Sì, sono fondi POR Campania. Abbiamo lavorato per fare questo polo universitario, noi pensavamo di farlo con l'università telematica, tanto è vero che stavamo prendendo contatti con Uninetto 1, con queste università telematiche. E avevamo localizzato il polo ad Angellala, l'amministrazione a Loia. Io mi ricordo che nell'ultimo periodo della nostra amministrazione, della vastata amministrazione, firmare la convenzione per avere questo, per dar corso a questo finanziamento. Parliamo dell'anno? 2010. 2010, ok. Fine 2010, inizio 2011, adesso con le date vado un po' così. Dopodiché l'avvento dell'amministrazione a Loia hanno fatto una variante a questo progetto perché l'hanno delocalizzato da Angellara a Ballo, nel palazzo, nell'ex convento dei Dominicani, battezzato da questa amministrazione come palazzo della cultura, l'abbiamo messo là dentro, l'hanno messo là dentro e di fatto con questi soldi hanno fatto l'aula consigliare. Ho capito. Dopodiché, a seguito di interrogazioni… Perché a Ballo non c'è un'aula consigliare. No, c'era l'aula consigliare. Hanno arredato, perché guarda a Ballo, c'era già tutto prima di loro. Sì. Cioè qua, ecco, non imitiamo Crozza. Mi viene in mente appunto Crozza. De Luca dice, a Ballo la piazza l'ho portata io. No, a Ballo già c'era la piazza, non l'hanno fatta loro. La piazza già c'era. L'aula consigliare già c'era. E aveva anche i sanpietrini che piacevano tanto alle persone. L'aula consigliare già c'era. Ok? Era intitolato anche al professore Rinaldi, che era stato sindaco di questo. Presso la sede comunale? Era presso il confitto, presso l'ex convento dei Dominicani. Ok. Oggi Palazzo della Portura. L'aula consigliare la nostra era lì. Quindi è sempre stata là, solo che adesso è stata... L'hanno arredata. L'hanno arredata. L'hanno arredata. L'hanno arredata utilizzando i soldi di quel finanziamento che era stato richiesto per quella finalità. Quindi con quel finanziamento che cosa si doveva fare? Ma si dovevano fare aule didattiche per creare videoconferenze, cioè conferenze a distanza, per seguire le lezioni a distanza. Però mi sembra che ci sia un'aula dove ci sta questa mezzaluna che ospita praticamente appunto il Consiglio e poi ci sono delle sedi. Quella sarebbe la sala. Quella sarebbe il polo di eccellenza. La sala di eccellenza del polo. Ho capito. Tra l'altro ci sono le sedi che dovrebbero servire per essere, per scrivere, insomma. Per scrivere, insomma. Quindi dovrebbero avere quantomeno... Così come all'università. Esattamente. Ma lì sono delle poltroncine, viceversa, per fare aule. Ho capito. Ma su questo, allora, su questo anche qui, abbiamo utilizzato questi soldi per fare l'aula consigliare. Punto. Ho capito. Non c'è... Adesso sono tutti variativi perché adesso stanno ringorrendo gli eventi. Perché hanno fatto una prima delibera nella quale ha detto l'aula consigliare non c'è più. Vi faremo sapere quale sarà l'aula consigliare del... Qua è un'altra polemica che... Ma uno ne deve fare uno al minuto. Certo. Uno ne deve fare uno al minuto. Perché c'è una delibera... E lo statuto comunale dice dov'è l'aula consigliare, com'è fatta l'aula consigliare. L'aula fatta una delibera di giunta dice non c'è... Per il momento non c'è l'aula consigliare. La individueremo. Ho capito. Ok. E stiamo nel limbo pure là. Quindi al momento l'aula consigliare è presso questo palazzo della cultura. No, l'aula consigliare al momento non si sa dov'è. Ufficialmente. Però i consigli li tenete lì? I consigli li teniamo lì. Ok. Ok. Va bene. Poi vorrei... Secondo punto. No. Oggi stanno ringorrendo perché la regione gli scrive e dice ma veramente avete fatto questa cosa? E loro dicono no, non è vero e fanno una delibera di... Portano la delibera di consiglio... Una delibera di giunta che dice così. Poi cercano di fare... Cercano di fare che cosa? Cercano di fare... La convenzione con l'università di Salerno non ci riescono adesso e di pochi giorni fa l'ha venuta a vallo dei responsabili della Pegaso per cercare di fare la... Quindi abbiamo fatto. Abbiamo fatto prima il palazzo, abbiamo fatto prima la... abbiamo arredato le sale a secondo al gusto di qualcuno. A me piace il rosso, a me piace il verde, a me piace così, a me piace così e a me piace E poi sentiamo le esigenze dell'università per verificare che cosa gli serve per fare una sala universitaria o delle aule universitarie per essere più corretto, idonee all'uso. Ho capito. Quindi questa è la storia del Polo. Come andrà a finire? Non lo so. Vedremo. Perché hanno avuto, a seguito di queste cose, hanno avuto anche dei problemi forse con la rendicondazione e quindi col pagamento di tutta questa roba. Tanto fino a maggio insomma c'è tempo. Giusto? Sì, sì. Fino a maggio insomma c'è tempo. Siamo a disposizione. Sì. Va bene. Poi vorrei toccare invece anche un argomento di cui ho trattato tra l'altro anche io durante insomma un mio articolo sul Quadriano alla città e cioè la situazione dell'asilo dei Politis e la situazione della mensa Aldo Moro, quindi della scuola elementare Aldo Moro. Vi spiego in breve. Da quanto mi risulta l'asilo dei Politis è stato destinatario di un finanziamento, correggimi se sbaglio, di circa 600 mila euro per cambiare degli infissi e per fare ulteriori lavori di ristrutturazione all'interno di questo asilo che rimane chiuso, se non erro, da giugno e questo termine dei lavori era fissato al 19 settembre scorso. Ad oggi risulta che questo asilo è ancora indisponibile e a questo quindi naturalmente non c'è la mensa quindi attiva e i ragazzini, insomma i bambini che andavano presso questo asilo sono stati spostati in altra sede, naturalmente i genitori devono andarseli a riprendere all'una perché appunto non c'è questo servizio mensa, creando disagio, c'è qualcuno che si lamenta dicendo anche che non riesce a lavorare perché giustamente ha l'impegno di andarsi a riprendere il figlioletto all'asilo. Poi a questo si unisce anche il discorso della mensa Aldomoro, la mensa Aldomoro da quanto mi è stato riferito da alcuni genitori i cibi risultano scadenti, per questo motivo i genitori sarebbero anche pronti allo sciopero affinché l'amministrazione non riprenda in mano la situazione e faccia in modo che la ditta giudicataria renda disponibili dei pasti un po' più di qualità. Questo naturalmente lo dicono le persone quindi noi abbiamo il beneficio del dubbio perché non sappiamo se effettivamente vengono serviti caviale e champagne oppure viene servito un pasto che magari non è gradito ai più. Per quanto riguarda questo discorso all'Aldomoro mi risulta anche che la sala mensa, quella di vita a mensa non è disponibile, i ragazzini vengono fatti mangiare nelle aule. Qual è la situazione al momento da quanto le risulta? Ti dico la verità, anche qui secondo me c'è un problema, la chiamerei sana comunicazione, no? Anche a me qualche genitore ha cominciato a sollevare qualche problema che come tu l'hai poc'anzi descritto e io ho detto vabbè vediamo pure perché come dicevo prima ci sarebbe da fare, da scrivere un libro quasi su ogni delibera e non vorrei dare certo l'impressione di chi fa solo polemiche o dice che sembra tutto sbagliato. La day politics è oggetto di lavori, forse queste consegne dei lavori sicuramente hanno avuto degli imprevisti, sicuramente i lavori forse dovevano terminare in un certo periodo e non sono terminati in quel periodo, però nessuno qui comunica nulla. Se parli con qualcuno ti dicono domani è tutto a posto, senza sapere come di sovente fanno, con la superficialità che hanno di dire domani è tutto a posto e domani forse non è tutto a posto. Il problema è di creare un disagio per i genitori che magari hanno programmato il loro piano di lavoro considerando che potevano lasciare il bambino a scuola o al bambino all'asilo fino alle ore X e oggi si ritrovano ad avere un problema ulteriore. Non lo so questo problema come si può risolvere molto francamente perché se non finiscono i lavori non so e non so nemmeno a che punto sono i lavori. Quindi non è stato comunicato alcunché nel senso che la scadenza era prevista per settembre che ad oggi non è stato comunicato, insomma una nuova scadenza. Questo come diceva quella pubblicità lo ignoro, quindi bisogna che mi documenterò, magari ti farò una nota io personale su questa questione, mi documenterò e ti relazionerò sulla vicenda. Sulla vicenda Moro invece qual è la situazione? Ma sulla vicenda Moro pure lì la scuola l'anno scorso ha subito tra virgolette l'allagamento quindi ci sono state delle cose... Parliamo dell'allagamento del terzo piano che poi ha interessato anche gli altri piani. Ci sono state tutta una serie di inconvenienti che hanno fatto sì che l'anno scorso le cose sono andate in un certo modo. Però la gente anche lì ha capito e come dire non è che qualcuno si è messo a fare le solite polemiche. Oggi, quest'anno però non capisco perché per esempio ancora l'aula della mensa non è pronta. A me dicevano che ci sarebbero dei pannelli da sistemare che erano caduti. Senti, allora il comune di Vallo, il comune di Vallo, spende tanti soldi. Sì. Abbiamo fatto il sito. 40.000 euro. 40.000 euro. Sì. Non lo facevamo, aggiustavamo la scuola. Sì. Abbiamo, io feci, ho fatto, se guardiamo il bilancio, quando ti dico che nelle relazioni del bilancio non mi dicono che vogliono fare, io gli posso dire non fare quello che è bello, compriamo fiori di meno, mettiamo meno fiori, mettiamo meno fiori. Ma non penso che sia quella la spesa, insomma. E aggiustiamo, e aggiustiamo, facciamo meno spese di rappresentanza, e aggiustiamo, facciamo meno tutto, facciamo meno tutto. Si può tagliare, insomma, il superfluo si può tagliare. Ma scusatemi un attimino, ma noi abbiamo messo nella Tasi tutte le strade che si sono asfaltate per il comune di Vallo, nel comune di Vallo, le hanno pagate i cittadini con la Tasi. Ok? Sì. Hanno messo, nel calcolo di questa imposta, hanno caricato 40.000 euro che potevano caricare da qualche altra parte e rimanendo invariato la Tassa, avrebbero potuto utilizzare 40.000 euro dell'anno scorso e 40.000 euro di quest'anno per metterle sulle scuole. Va bene? Certo. Allora, fanno incassi straordinari di tributi di anni precedenti, sono entrate una Tandum perché stanno facendo gli accertamenti. Beh, con quei soldi che sono una Tandum possono aggiustare, possono fare spese che sono una Tandum. Perché non lo fanno? Allora, questo è il problema. Allora, è il problema di programmare le cose. È chiaro che adesso dobbiamo programmare le cose che vogliamo fare. Se lo vuoi programmare adesso perché ci stanno i bambini dentro, ti diviene difficile. Ma programmarlo, non lo so, ad aprile per giugno va bene. No? Perché a giugno hai tre mesi estivi dove tu puoi fare i lavori. Ma d'altro canto è come il sindaco di Vallo non parla della viabilità. Il sindaco di Vallo, noi non parliamo che per andare a Salerno ci vuole un'ora e mezza. E allora noi non parliamo della... come stanno le cose sulla Cilentana. Questa gara che sta facendo la provincia, quali sono i lavori che si faranno. Sta strada si aprirà, si aprirà mai, andrà avanti. Quello è un altro argomento. Ma quando lo facciamo, poi ci rendiamo conto che vogliamo parlare di turismo verso maggio prossimo. No? Ok? Allora la provincia sta facendo una gara. Sì. Se sì, a che punto è? Si dice che dovrebbe insomma aggiudicarla a metà novembre. Però vediamo. Il si dice, lo conosco pure io, va bene no. Però io vorrei che un sindaco, il sindaco che immagina di essere il sindaco capofila, ok? O di essere il sindaco di una città che deve essere centrale, deve necessariamente preoccuparsi di questi problemi, caricarseli sulle spalle e affrontarli. Perché questi sono problemi che interessano tutti. Sì. Ok, a me risulta che l'unico che ha fatto una battaglia di questo tipo è stato il sindaco di Ceraso quest'anno. Per quanto riguarda la Cilentana, sì. Per quanto riguarda la Cilentana, per far fare la riapertura non solo nei weekend, ma... Il sindaco di Ceraso e i 28 firmatari di quella famosa lettera alla provincia. Per dire, mi pare che il sindaco di Ceraso, l'avvocato Maione ha preso... È stato il promotore, sicuramente, sì. Quindi, parliamo di questo. Certamente. Quindi io vorrei un sindaco che facesse questo, no? Che programmasse la fida così, programmasse l'attività politica amministrativa così, ma lo facesse pure con gli atti. Perché se viene il sindaco, quando tu senti di parlare di sindaco e ti dice, io sto facendo questo, sto facendo questo, sto facendo questo, e tu lo guardi e gli dici, sì, ma dove l'hai scritto? In quale atto programmatico lo hai scritto? In quale... stai facendo delle telefonate? Certo. Perché domani mattina non ci sei più tu, arriva un altro, può continuare la tua azione. Perché? Se Aloe sarà riconfermato, la continuerà lui. Ma se Aloe non è riconfermato, l'altro sindaco di turno chi andrà? Se non trova gli atti, giustamente. Se non trova gli atti, che fa? Lo telefona la mattina e dice, che hai fatto lì? Passa cinque anni ad avere corrisponsione di amorosi sensi con Aloe, non ho capito. Mi pare che quello che dico sia abbastanza semplice e abbastanza normale per un'azione amministrativa. Certamente, allora siamo ormai in chiusura, rinnoviamo per quanto riguarda il consigliere Romaniello di rincontrarci quando avremo un po' più chiare anche le situazioni che riguardano questi argomenti che abbiamo toccato stamattina. Naturalmente lo invitiamo nel momento in cui ci dovessero essere anche novità in merito alla lettera inviata al prefetto. Per il momento quindi lo salutiamo, lo ringraziamo e ringrazio voi per averci seguito questa mattina. Della pazienza avuta, soprattutto per gli sfoghi che ci sono stati, ma a volte sono d'obbligo. E vi rinnovo, insomma, l'invito a seguire i programmi della TV di Guendalina. Noi ci vedremo presto, per quanto mi riguarda ci vedremo venerdì mattina, dove avremo ospite Marcello D'Aiuto, che è il presidente dell'Alento, quindi la fondazione Alario di Ascea. Quindi vi rinnovo nuovamente l'invito a seguirci e buona giornata. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.